Oggi sto guardando l'autunno bellissimo per terra, coi raggi di sole, veramente eccezionale, guardare quante tonalità di colore ci sono, dal giallo chiaro al giallo scuro, al verde, un po' di rosso, quante tonalità ci sono, sto andando in un bel posto a fare un leggero picnic, ore pomeridiane, sì la mia vita è sempre la storia di picnic e devo dire che qui sono nella mia zona, vicino a casa mia, zona Bisceglie, ora entro in questo piccolo sentiero e vado a vedere un bosco, scusate ci sono dei cani, meno male che c'è il recinto e l'aria dei cani, benissimo lasciamo lì per chi ama gli animali, ecco ancora ancora ancora, niente sto andando in un bel posto tranquillo da solo senza esseri umani e senza cani, mi incammino in questo piccolo sentiero dove vedo tronchi d'albero ma non è un'unica pianta, sono diverse piante raggruppate che si uniscono e determinano un blocco unico, vi faccio vedere com'è bello qua, com'è bello questo posto, sembra di essere in un bosco di alta montagna, guardare di fronte la diramazione di diversi tronchi d'albero e devo dire che qui sono da solo, mi trovo bene, c'è anche l'aria delle panchine, ottimamente e mi è piaciuto fin dalla prima volta che sono venuto a vedere la diramazione, questi alberi molto biforcuti, eccoli qua di fronte a me, eccoli qua e poi sono nella zona Bisceglie, praticamente sono vicino a casa mia a 100 metri, non al parco delle cave, questa è un'altra zona, guardare quest'albero di fronte, a me piacciono questi tronchi qua che sembrano insieme un abbraccio, qualcosa che unisce, che prende l'aria visiva in alto del cielo, Aldo, Aldo.